Dattilografa in uno studio legale e successivamente impiegata come maschera al Teatro 4. Fontane di Roma, le viene offerta la possibilità, nello stesso teatro, di ricoprire piccole parti nella compagnia di Sergio Tofano e Diana Torrieri. Nella stagione 1942-1943 e successivamente con Anna Magnani e Totò nella rivista Con un palmo di naso, diretta da Michele Galdieri, sarà il suo compagno di quel periodo, lo scrittore Sergio Amidei, a presentarla a Roberto Rossellini e a convincerla a ricoprire la parte di Marina, nel film Roma città aperta, 1945.